Il campione del mondo Gianluca Zambrotta assieme al bomber Marco Divaio e a due maestri del calcio come Giancarlo Marocchi e Enrico Sacchi. Sono questi alcuni dei nomi di Enrico Parter che ha presentiato al Carlino d'Oro di Milano Marittima organizzato da Mario e Patrick Baldassarri, un'edizione la quindicesima che ha battuto ogni record. Incredibilmente quest'anno abbiamo superato ogni più rosa e aspettativa perché considerando i voti arrivati con i coupon cartacei che si potevano inviare ritagliandoli dal giornale, quelli della giuria di esperti che di settimana in settimana veniva interpellato ed erano dirigenti delle società sportive che segnalavano giocatori dei vari campionati che conoscevano e che ritenevano degni di una segnalazione di un voto, più quelli che sono arrivati sul web perché c'è una speciale classifica riservata soltanto ai voti sul web, abbiamo superato i 300.000 voti che è una cosa incredibile. I campioni di oggi, i campioni di ieri che incontrano quelli che potrebbero essere i campioni di domani, quindi è anche una bella occasione per i giovani. Sì, è la storia del Carlino d'Oro, di questo Oscar del calcio giovanile che permette nella serata della premiazione di far conoscere da vicino ai ragazzini giocatori di oggi, campioni, allenatori di ieri e poi durante la stagione sportiva alcuni di questi ragazzi avranno la possibilità di andare a visitare le grandi squadre della Serie A nel loro ritiro, nel loro centro sportivo. Abbiamo portato negli anni passati i ragazzi alla Juventus, all'Inter, al Milan, quindi insomma c'è anche questa seconda opportunità per i migliori, per godersi il successo nel Carlino d'Oro. Grazie.